...Bronzini! Buonasera, io ho inventato un'app per smartphone che connette Google Maps all'autoradio della macchina e quindi il navigatore funziona così. Prendi la strada che passa a Valdobbiadene e segui l'Adige, è uno stress ma poi arrivi a Cattolica, uuuuh! Esci a San Siro, prendi per Brera, alla rotonda, terza uscita e trovi là. Un autovelox per te! Non te l'aspettavi, eh? Ma questa app, io ho creato un upgrade che praticamente legge anche lo stile di guida di chi è al volante. Pensate al vecchietto col cappello che va ai 30 all'ora. C'è ancora molto se vai così piano, prova un po' a togliere il freno a mano. Se stai così a destra, finisci nei fossi, trovi anche mille semafori rossi. Alla rotonda, girare, c'hai uno dietro che suona, ti sta mandando a cagare. Tu e la tua panda a coupé. La tua panda fa un po' croc, ci vuole un centro d'assistenza, ti sei fermato alla Tamoil, ma di miracoli son senza. Anche Gesù, bambino, ha detto sei un cretino, di chilometri ne abbastanza. Seicentomila è un'indecenza, minchia il freno, si è spaccato con una scarica di rutti. Sei finito su un piantone di un camion di prosciutti. E strabiliatevi, se va ancora, e non fermatevi, oh no. Ma al semaforo. Grazie. Maurizio. Allora, io andrei dritto, dritto, dritto dal creatore delle canzoni Bonsai, che è un grandissimo successo di Enzo Iacchetti. Per cui, quando uno ha una chitarra in mano, a me viene in mente subito te. Come è andata Enzo? Io ho visto un numero molto divertente, mi ha fatto ridere, per me è positivo. Yes! L'altro che rideva di brutto era Paolo Ruffini. Sì, davvero Maurizio, mi hai fatto molto ridere perché ha il vantaggio del tema. Quindi ci siamo indirizzati su quello, c'è un aspetto minimale che ci consentiva ancora di più di concentrarci sulla musica, che non è male, perché sei diventato stupefacente, arrivi tutto piccolino e poi hai anche una bella voce. Per cui, grazie. Selvaggia? Allora, senti Maurizio, tu sei bravo, c'è solo un problema, a me non piace questo genere di comicità. Nel senso che per me è una comicità un po' da birreria, per me è un po' troppo semplice, per cui con te cercherò una via di mezzo nel giudizio. Io sarò dolcissimo. Prego Diego! No, invece io amo la birreria. Nel senso che non ho mai visto nessuno fare i cabarini in birreria. E tu facevi ridere abbastanza e secondo me funzionavano le cose, nel senso che bravo e era carino quello che gli fai. Andiamo ai voti, andiamo ai voti, forza! Veniamo un attimo a questo navigatore dove ti porterà. Tiene un bel posto o meno. Eccoli qua, arrivano i voti. Paolo Ruffini 7.5, Enzo Iacchetti 7.5, Diego Battantuono 6. Selvaggia Lucarelli 5.5 per un totale di 26.5. Così è stato deciso. Arrivederci, arrivederci, arrivederci!